RITA Sentiamo molto vicino a noi Rita perché non era una ragazza come noi, ha trovato il coraggio di denunciare che sapeva, pur andando contro la sua stessa famiglia. Rita per noi è un esempio ed è per il nostro impegno quotidiano una fonte di energia, ciò che ci fa capire ogni giorno l'importanza e il bisogno di raccontare la sua storia, perché è di impegno quotidiano che parliamo, di impegno quotidiano che c'è bisogno per vincere la lotta alle mafie e per riuscirci davvero bisogna capire che non basta la commemorazione e la commozione del momento, questa memoria deve essere trasformata in impegno costante, dalla carovana, dalla Sicilia, mi arriva il nostro abbraccio. Queste sono le parole che da Milazzo arrivano questa sera a Sarzana. Oggi noi abbiamo creato un filo, noi stando qua in questa piazza a Sarzana accanto al comune abbiamo creato un filo fra Milazzo e Sarzana, un filo fatto di memoria ma un filo fatto di testimonianza e questa testimonianza e questo filo sono nel nome di Rita Atria.